Ciao ragazzi, in questo video vedremo alcuni esercizi relativi alle funzioni pari, dispari e periodiche. Cominciamo subito con il primo esercizio, che ci chiede di dire se la funzione f di x uguale a sen x più 1 diviso 4 sen x è pari, dispari e o periodica. Questa funzione ragazzi era stata assegnata all'interno di un problema più vasto nella maturità del 1995. Allora cominciamo subito a chiederci innanzitutto se la funzione è pari o dispari e per fare questo dobbiamo naturalmente andarci a calcolare f di meno x. f di meno x vi ricordo si ottiene semplicemente prendendo la vostra f di x e andando a sostituire ogni x che trovate in giro con meno x e quindi nel nostro caso si ottiene seno di meno x più 1 diviso 4 volte il seno di meno x. A questo punto ragazzi dobbiamo cercare di capire a che cosa è uguale il seno di meno x. Se vi ricordate però nel video precedente avevamo visto che il seno è una funzione dispari e quindi il seno di meno x è uguale a meno sen x, da cui otteniamo che f di meno x è quindi uguale a meno sen x meno 1 diviso 4 sen x. E se confrontiamo quello che abbiamo ottenuto con la funzione di partenza ci convinciamo subito che quindi f di meno x è uguale a meno f di x. E questa è esattamente la condizione che deve essere verificata per avere una funzione dispari. Quindi possiamo concludere che f di x è dispari e conseguentemente non può essere pari e sappiamo anche che il suo grafico sarà simmetrico rispetto all'origine. Naturalmente uno poteva convincersi che la funzione era dispari anche notando che si trattava della somma di due pezzi, ciascuno dei quali è dispari. Infatti il seno è una funzione dispari e anche qui avremo un quarto moltiplicato per un seno, poco importa che il seno stia al denominatore e quindi anche questo pezzettino qui è dispari. Quindi uno in un certo senso poteva aspettarselo guardando il testo. Tuttavia ragazzi mi raccomando è sempre una buona idea dimostrare che la funzione è dispari e per fare questo è necessario andare a calcolarsi f di meno x e far vedere che viene uguale a meno f di x. Anche per la periodicità si può fare un ragionamento analogo ragazzi. Infatti vedete che la nostra funzione è la somma di due pezzettini, il primo dei quali è un seno e questo sappiamo avere periodo 2π e il secondo pezzettino a parte le costanti moltiplicative ha dentro un seno anche lui e quindi sappiamo che anche il secondo pezzettino avrà periodo 2π. Quindi uno si aspetta che anche la funzione che è la somma di questi due contributi abbia periodo 2π. Il ragionamento va benissimo, tuttavia lo dobbiamo dimostrare. Come facciamo a dimostrare che la funzione è a periodo 2π? Dobbiamo andare a calcolarci f di x più 2π e far vedere che ci viene uguale ad f di x. F di x più 2π si ottiene semplicemente andando a prendere la f di x e andando a mettere x più 2π al posto di ciascuna x che c'era nella funzione di partenza. A questo punto possiamo sfruttare il fatto che sappiamo che il seno è una funzione periodica di periodo 2π e quindi il seno di x più 2π è direttamente uguale a sen x e quindi otteniamo che la nostra f di x più 2π è uguale a sen x più 1 diviso 4 sen x. Ma se la confrontate con la funzione di partenza uno si convince proprio che questa qui è esattamente f di x. E quindi ragazzi siamo effettivamente riusciti a provare che la nostra funzione è come ci aspettavamo periodica di periodo 2π. Qui sulla sinistra vi ho riportato un plot qualitativo della funzione perché volevo farvi notare una cosa ragazzi. Allora intanto sapendo che la funzione è periodica di periodo 2π, notate che mi sono limitato a disegnarla tra meno π e π. Questo effettivamente è un intervallino lungo 2π e che significa che se poi proseguissi qui a destra oppure prima a sinistra con il grafico troverai che la situazione si ripete analogamente infinite volte. Però sapere che la funzione è anche dispari ci consente di dire una cosa in più, cioè ci consente di notare che in un certo senso la zona interessante da studiare era forse solo quella tra 0 e π, visto che tanto poi tra meno π e 0 si poteva dedurre il comportamento ribaltando rispetto all'origine quello che accadeva qui tra 0 e π. Infatti notate che quelli che qui erano due minimi sono diventati da questa parte due massimi e si trovano nelle posizioni esattamente corrispondenti dall'altra parte. E naturalmente uno potrebbe fare altre considerazioni analoghe per gli assintoti oppure per i punti di flesso eccetera eccetera e quindi sapere che è periodica di periodo 2π e sapere che è nel contempo dispari ci dice che l'intervallo veramente interessante su cui studiare la funzione è lungo semplicemente π. Consideriamo adesso quest'altro esercizio che ci chiedeva di dire per quali valori dei parametri reali a e b la funzione f di x uguale ad a per e alla x quadrato più bx è una funzione pari tale che f di 0 è uguale a radice di π. Allora ragazzi in primis vogliamo che la nostra funzione sia pari. Di conseguenza ricordandoci che cosa significa che una funzione è pari dovremmo imporre che f di meno x sia uguale ad f di x. A questo punto basta che andiamo a sostituire ragazzi f di meno x viene uguale ad a per e elevato alla x quadrato meno bx perché vedete x quadrato anche se ci metto meno x resta x quadrato e invece questa x qui naturalmente cambia di segno e questo voglio che sia uguale alla mia funzione di partenza. Naturalmente uno a questo punto semplifica i coefficienti moltiplicativi davanti agli esponenziali e poi passa ad analizzare l'uguaglianza tra gli esponenti perché vi ricordo che se avete due esponenziali con la stessa base e li ponete uguali tra di loro questo è equivalente a cercare di capire quando sono uguali i loro esponenti di conseguenza arrivati a questa disuguaglianza uno si semplifica anche x quadrato ragazzi e che cosa conclude? Conclude che b deve essere uguale a 0 infatti questo è l'unico modo per far sì che questa relazione sia valida per qualunque x appartenente al dominio della funzione e vi ricordo che se la funzione è pari ragazzi questa condizione deve essere verificata proprio per tutte le x appartenenti al dominio. A questo punto ci siamo trovati uno dei due parametri ragazzi cioè il b e dobbiamo quindi fissarci il valore dell'altro cioè del parametro a e siccome se non è zuppa e pan bagnato visto che la prima delle due informazioni cioè il fatto che la funzione sia pari l'abbiamo già sfruttata ci toccherà a questo punto sfruttare l'altra e quindi dovremo imporre che f di 0 sia uguale a radice di pi greco. Da qui in poi si tratta solo di fare il calcolo ragazzi f di 0 viene uguale ad a per e elevato alla 0 e se vogliamo che questa cosa sia uguale a radice di pi greco tenendo conto che e alla 0 fa 1 l'unica possibilità è che il valore del parametro a sia radice di pi greco e quindi si conclude che la funzione cercata era f di x uguale a radice di pi greco per e alla x quadrato e se provate a disegnarvela ci si convince che l'andamento è di questo tipo qui. Mi raccomando non è una parabola ragazzi perché questi sono rametti di esponenziale. Volevo cogliere adesso l'occasione per fare due osservazioni importanti. La prima è la seguente ragazzi. Se vi ricordate nel video precedente avevamo detto che la funzione esponenziale y uguale e alla x non è né pari né dispari e questo effettivamente è corretto. Però vedete che quella che abbiamo ottenuto qui che è sostanzialmente y uguale e alla x quadrato a parte la moltiplicazione per la costante radice di pi greco è invece una funzione pari e quindi ragazzi state attenti a dire che in generale gli esponenziali non sono né pari né dispari perché questa è un'affermazione che va presa un po' con le pinze nel senso che in realtà dipende da che cosa ci mettiamo all'esponente. È comunque possibile dimostrare ragazzi che in generale la composizione di due funzioni come accadeva qui se la funzione interna è pari allora è una funzione pari anche lei. Mi raccomando però che il viceversa non è detto. L'altra cosa che volevo farvi notare ragazzi è che io al primo passaggio qui dell'esercizio precedente ho semplificato tranquillamente il coefficiente a e io questo in generale lo posso fare solamente se so che a è diverso da zero. Però cosa sarebbe accaduto se a fosse stato zero? Chiaramente la nostra funzione f di x sarebbe diventata la funzione nulla, la funzione sempre uguale a zero e non era quella che stavamo cercando perché chiaramente calcolata in zero non poteva dare a quel punto radice di pi greco. Però la funzione nulla è particolarmente interessante da citare ragazzi perché è l'unica funzione che nel contempo sia pari che dispari. Infatti ragazzi se ci pensate bene l'unica funzione il cui grafico è simmetrico sia rispetto all'origine che rispetto all'asse delle y è proprio la funzione y uguale a zero, cioè il cui grafico coincide con l'asse delle x. Ed è interessante notare questo ragazzi perché nel video precedente avevamo capito che una funzione non è obbligata ad essere né pari né dispari, cioè ci sono delle funzioni che non hanno una parità definita. E adesso scopriamo anche che ci sono funzioni, o meglio ce n'è una sola, che è nel contempo sia pari che dispari. Detto questo ragazzi io vi saluto, come sempre se vi è piaciuta questa video lezione ricordatevi di mettere mi piace e date un'occhiata all'interno del canale dove troverete molti altri video dedicati non solo allo studio di funzione ma anche a molti altri argomenti di matematica. A presto!